La magia anche del sindaco. Perché 24? Data odierna? No. È l'anno in cui ultimeremo gli ultimi lavori del nuovo stadio. Entro il 2024 noi consegneremo il nuovo stadio completo alla comunità, perciò 24. Cos'è 21? Quest'anno? No, la capienza del nuovo stadio. 24, l'anno di consegna, 21.000 gli spettatori. E questo 4? Gli anni entro i quali l'Avellino tornerà in Serie A. Questa è la vera sorpresa. Ed è per questo, non per la legge, ed è per questo che abbiamo voluto presentare il progetto ad aprile. Possiamo giocarceli all'otto, sì? Assolutamente sì. Assolutamente sì.